L'ore di mattina nella redazione cellulare magazine.it Leto invio da parte di Nokia di una cuffia auricolare e del Nokia 8006 detto anche Luna Come potete vedere la confezione è tutta nera, molto elegante Apriamo Il leitmotiv dei terminali di fascia alta del produttore finlandese Il cellulare, come si può vedere già la trasparenza, tutto in nero, a quanto pesante Batteria, classica BP5M di Nokia Cuffia stereo con jack da 2.5 mm All'interno della confezione, per riporre la batteria, sono segnati sia il simbolo della batteria che della cuffia Vediamo sotto cosa c'è CD installazione del Nokia Suisse Opuscolo Desterminare Libretto di istruzioni a quanto corposo Tutto in italiano Enorme Abbiamo poi la custodia in pelle Sì La pezzolina per pulire il telefono La custodia in pelle scalamitata Molto carina Molto carina Abbiamo ancora il laccetto per appendere il telefono Tutto in metallo Adattatore Al vecchio caricabatterie di Nokia Alla nuova porta micro USB Cavetto micro USB USB per collegare il dispositivo dal computer E qui il caricabatterie da viaggio Accendiamo il terminale Per farlo dobbiamo utilizzare il bottone laterale E far scivolare la cover Questa in acciaio Infatti è molto pesante Come potete vedere tutto il terminale è rifinito e greggiamente Inseriamo la sim Facile inserimento La batteria Cominciamo a far partire l'accensione Questo dispositivo monta la serie 40 di Nokia La sim è una di quelle che siamo per fare le prove Ed è fatto tutto in metallo e vetro Infatti sia la parte del display Che quella che copre i tasti sono in vetro Solidissimo a quanto dice il produttore finlandese Quindi non c'è da preoccuparsi in caso di cadute o di graffi Lo slide up funziona molto bene Due casse laterali Per avere un effetto stereo Non c'è nient'altro se non il bottone per l'apertura E la porta micro USB sui lati per mantenere una pulizia La parte posteriore ha la fotocamera scomparsa da 2 megapixel Per scatti con la risoluzione massica di 1600x1200 pixel Nessun flash Lo schermo è di tipo OLED Infatti dovrebbe essere molto visibile anche in condizioni di luce diretta E ha una risoluzione massima di 240x320 pixel Come potete vedere è la classica serie 40 di Nokia come menù Con una livrea in bianco e nero che si porta tanto Quando si va sulle varie applicazioni Questa si illumina Abbiamo selezionato applicazioni fotocamera E' possibile scattare attraverso il tasto centrale E regolare i menu delle funzionalità della fotocamera Attraverso i due tasti funzione Destro e sinistro Il telefono è un quadribanda GPRS ed Edge Manca la funzionalità UMTS Ma non c'è da aver richiesto Infatti anche nel Sirrocco Papà di questo telefono Infatti questo terminale sarà posizionato in una fascia di prezzo media Tra il Sirrocco e altri terminali di fascia alta di Nokia E' rifinita in questo modo Non ci sono plastiche tutto in acciaio, metallo e vetro I tasti sono comodi Facilmente digitali Carino lo scatto Nel momento in cui il terminale rimane inattivo per qualche secondo Parte un flash e poi lo screensaver E i tasti brillano poi nella Brillano poi per indicare lo stato di stand by e di copertura della rete Infatti ora non è coperto perché la nostra scheda non è attiva E quindi non vippano Con questo terminale Nokia ci ha mandato anche un auricolare La BH701 Questo cerchietto di metallo serve a tenere l'auricolare vicino all'orecchio in caso di caduta Ma una volta infilato l'altoparlante nell'orecchio non ci dovrebbe essere alcun problema di sorreggimento Non è velluto, è plastica Troviamo poi l'adattatore USB molto elegante e comodo L'accetto anch'esso in metallo come quello del telefono per portarlo a collo Garanzie La definizione del prodotto E il libretto di istruzione Il Nokia 8006 Luna dovrebbe arrivare sul mercato entro ottobre In Italia ad un prezzo ancora da definire Ma sicuramente sarà decisamente più basso del Sir Rocco Che costa oltre 1000 euro Per cellulare magazine.it Emilio Vignapiano con il Nokia 8006 Luna